A Milwaukee, un uomo di 42 anni, in preda alla disperazione, è andato sul posto di lavoro dell'ex moglie, che da pochi giorni l'aveva lasciato, e per vendicarsi ha cominciato a sparare all'impazzata. Poi nel raptus della follia, Radcliffe Oton, questo è il nome dell'assassino, si è puntato la pistola alla testa e l'ha fatta finita. Il bilancio finale sarà di tre morti, oltre il killer e quattro feriti. In tutta la zona sono subito arrivati FBI e polizia, che sono stati impegnati in una serrata caccia all'uomo. Diverse ore dopo il massacro, la notizia che il 42enne americano era stato trovato senza vita nel luogo della sparatoria. Buongiorno e bentrovati con l'informazione di Unica Channel. Oltre 2000 persone hanno preso parte alla fiaccolata indetta dai 20 parroci della periferia Nord di Napoli, il ricordo di Pasquale Romano, il giovane ucciso dalla camorra per un errore lo scorso 15 ottobre. Al corteo si è unito anche il cardinale Sepe. Migliorano le condizioni di Lucia, la 18enne ferita pochi giorni fa a Palermo con venti coltellate dall'ex ragazzo. La ragazza ancora non sa che la sorella Carmela nel tentativo di difenderla non ce l'ha fatta. Intanto arrivano dichiarazioni che faranno discutere della madre del giovane omicida. Mio figlio è un bravo ragazzo, non è un mostro. Passiamo alla politica. Duro stop di Bersani sulla legge di stabilità. Il segretario del PD, infatti a proposito delle disposizioni contenute nella legge di stabilità affermato. Voglio dirlo con chiarezza, noi non saremo in grado di votare così come sono le norme sulla scuola. Finirebbero per dare un colpo ulteriore alla qualità dell'offerta farmativa. Esteri. Due attentati ieri in Siria. Ad Aleppo, nel nord del paese, 31 persone sono morte e decine sarebbero feriti nell'esplosione di un'autobomba guidata da un kamikaze. E a Damasco, nel quartiere Cristiano, un ordigno esploso davanti a una stazione di polizia, causando 13 morti e 29 feriti. Caldo record in tutta Italia. Le temperature vicine ai 30 gradi dell'ultimo weekend hanno invogliato molte persone ad affollare le spiagge di tutto il meridione. Da Roma in giù, nonostante gli stabilimenti balneari siano ormai chiusi, la gente ha approfittato per concedersi probabilmente una delle ultime tintarelle. Era l'ultima notizia, vi auguro un buon proseguimento di giornata.